Aveva realizzato una piantagione di marijuana ed era rimasto coinvolto nelle intercettazioni dei militari. Per detenzione a fine dispaccio di sostanze stupefacenti un 33enne di Pratola Peligna MP ha patteggiato la pena di un anno di reclusione davanti al giudice per le udienze preliminari e tribunale di Sulmona Marta Sarnelli e il primo provvedimento adottato nell'ambito dell'inchiesta La Fenice su presunto traffico di droga intercettato all'epoca dei fatti dai carabinieri. Il giovane assistito dall'avvocato Alessandro Margiotta ha patteggiato la pena di un anno di carcere che in verità risulta sospesa poiché l'imputato è incensurato. Per altri quattro imputati è starà già accordata la messa alla prova mentre per gli altri 13 il giudice dovrà decidere se disporre in via giudizio o emettere la sentenza di non luogo a procedere e quindi di proscioglimento. Si tornerà in udienza preliminare il 28 ottobre dopo i termini a difesa concessi questa mattina. L'operazione La Fenice risale al 2017. All'imputati vengono contestati a vario titolo i reati di traffico illecito di ingenti quantità di sostanze stupefacenti in concorso e tentata estorsione per due di loro commessi principalmente in Valle Peligna particolarmente a Sulmona, Raiano e Pratola. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un chilo e 200 grammi di marijuana, 74 mila euro di contanti, un distributore di frequenze e un pugno di ferro utilizzato probabilmente per le tentate estorsioni.